Quest'anno è il secondo e il terzo invece dallo scorso anno quando abbiamo iniziato questa collaborazione con la Comarpesca e la Marineria Fanese che con grande spirito di generosità e di collaborazione ci ha dato questa disponibilità ad organizzare dei pasti per i poveri, per gli ospiti che frequentano abitualmente la mensa di San Paterniano ed anche per altre realtà, incluse i richiedenti asilo che noi abbiamo accolto. Ecco, diciamo quest'anno ne è stato già fatto uno nel periodo di Pasqua dove siamo stati ospitati a Ponte Sasso dal ristorante La Lanterna. Il pranzo è per circa 100 persone, qui verrà consegnato un buono, quindi abbiamo bisogno di regolamentare anche le presenze proprio per poter dare un buon servizio e un servizio di qualità. Sarà una giornata in cui potremo mangiare dell'ottimo pesce come quello che sa cucinare la marineria nostra, locale, e sarà anche un momento di festa perché insieme poi al pranzo ci saranno momenti di condivisione, di musica e di gioia.